Bene, in questa lezione parleremo della cartilagine. Abbiamo detto che il tessuto connettivo, quindi, di cui fa parte la cartilagine, è suddiviso in due grandi gruppi, il tessuto connettivo propriamente detto e i tessuti connettivi specializzati. La cartilagine è un tessuto connettivo specializzato con funzione di sostegno e quindi per questo avrà, essendo un connettivo, tutte le caratteristiche di un tessuto connettivo, ma con delle varianti che la rendono appunto specializzata, cioè atta fatta per compiere determinate funzioni. La cartilagine, quindi, è un connettivo con funzione di sostegno, ma dove lo troviamo? Lo troviamo principalmente a formare lo scheletro dei neonati e dei bambini. Mentre vedremo lo scheletro degli adulti è formato da tessuto osseo, lo scheletro dei bambini è formato principalmente da cartilagine. Nell'adulto, invece, la cartilagine rimane soltanto in alcune zone, qual è ad esempio la punta del naso, quindi le cosiddette cartilagini nasali, oppure rimane ad esempio a livello della trachea e dei bronchi. Sono tutte zone in cui c'è bisogno di un sostegno, però il tessuto deve anche essere in un certo senso deformabile, elastico, tra virgolette. Quindi questo giù ci fa capire la prima differenza fondamentale tra cartilagine e osso. Sono entrambi strutture con tessuti connettivi di sostegno, ma la cartilagine ha un limite di deformabilità che l'osso invece non ha. La cartilagine comprende tre varianti, la cartilagine ialina, la cartilagine elastica e la cartilagine fibrosa. Iniziamo a parlare della cartilagine ialina. La cartilagine ialina è stata chiamata così dal greco ialos, che significa vetro. Perché? Perché quando noi vediamo questa cartilagine al microscopio, sembra quasi di vedere una struttura che ha un certo aspetto vetrato, come se fosse appunto un vetro in cui sono immerse poi le cellule. Da qui appunto il nome di cartilagine ialina. E la cartilagine è più diffusa, ed è quella che più spesso poi va incontro anche a tossificazione. Nell'adulto rimane in alcune zone, come ad esempio a livello della trachea oppure dei bronchi. Abbiamo detto che la cartilagine è un tessuto connettivo, quindi avrà una componente cellulare e una sostanza fondamentale, una sostanza intercellulare. E quindi poi la sostanza intercellulare, vedremo, ci saranno sia fibre connettivali che sostanza fondamentale amorfa. Per quanto riguarda la componente cellulare, sono tre i tipi di cellule che troviamo a livello della cartilagine. Troviamo i condroblasti, i condrociti e i condroclasti. Quindi il suffisso condro è sempre riferito alla cartilagine. Poi l'altra parte, blasti, citi e clasti, sono nomi che rincontreremo spesso. Ma da dove nascono le cellule della cartilagine? Abbiamo detto appunto un tessuto connettivo e sappiamo che per la maggior parte le cellule del tessuto connettivo vengono dalle cellule mesenchimali. Anche appunto per la cartilagine il punto di partenza sono le cellule mesenchimali. Che succede? Un gruppo di queste cellule inizia a differenziarsi. I cambiamenti che avvengono a livello cellulare sono la perdita dei prolungamenti citoplasmatici e l'assunzione di una forma più circolare. A questo punto non si parla più di cellule mesenchimali, ma si parla di blastema protocondrale. Cioè questo gruppo di cellule, chiamato appunto blastema protocondrale, formerà poi la cartilagine. Però questo gruppo di cellule ancora non produce gli elementi della cartilagine. Dal momento in cui questo gruppo di cellule inizia a produrre il collagene della cartilagine, le glicoproteine, tutte, diciamo, le componenti che vedremo poi formano la sostanza intercellulare della cartilagine, allora non si parla più di blastema protocondrale, ma si parla di condroblasti. Questo già vi fa capire quale sarà la funzione dei condroblasti. Sono cellule con un nucleo acromatina dispersa e con un citoplasma molto basofilo. Per la presenza di un abbondante RER e un abbondante apparato di Golgi. Sono per la cartilagine quello che i fibroblasti sono per un connettivo probabilmente detto. Cioè servono a produrre tutte le componenti della cartilagine. Quindi le fibre, le glicoproteine, della sostanza fondamentale della morfia, glicosalminoglicani e via discorrendo. L'altro tipo di cellule è formato dai condrociti, che non sono altro che l'evoluzione dei condroblasti. Cioè i condroblasti producono, a un certo punto la loro produzione va via via diminuendo, quindi il loro nucleo non ha più la cromatina dispersa come l'aveva prima, il citoplasma non è più basofilo come l'era prima e quindi non si parla più di condroblasti ma di condrociti. Che succede però? Che i condroblasti si sono costruiti attorno, man mano che hanno fatto la loro produzione, la sostanza fondamentale della morfia, la sostanza intercellulare della cartilagine. Quindi che succede? Che a un certo punto i condrociti ex-condroblasti si troveranno circondati da questa sostanza intercellulare. La sostanza intercellulare della cartilagine non permette alle cellule di spostarsi da una parte all'altra. Quindi questo condrocita rimane in un certo senso imprigionato all'interno della sostanza che è lì stesso ha prodotto. Questo cosa determina? Determina che nel momento in cui i condrociti si divideranno, questi non potranno muoversi e allontanarsi dalla zona in cui stanno. Quindi avremo delle zone chiamate lacune cartilagine in cui troveremo tante cellule che insieme formano i gruppi isogeni. Perché gruppi isogeni? Perché sono gruppi di cellule isogeni che derivano dalla stessa cellula madre. Perché appunto lì c'era la cellula madre che si è divisa, loro non si possono spostare e quindi tutte le cellule sono uguali fra di loro. Vediamo adesso invece la componente delle fibre connettivali. Le fibre della cartilagine sono fibre del tipo 2, quindi sono formate dal collagene di tipo 2. Questo collagene può formare nella cartilagine fibre piccole oppure fibre più grandi. Le fibre connettivali però non sono disposte in maniera uniforme all'interno della cartilagine, ma assumono una distribuzione peculiare. Le fibre connettivali tendono ad essere in minor quantità attorno alle lacune cartilagine. Man mano invece che ci si allontana dalle lacune cartilagine, le fibre connettivali aumentano. Questo cosa determina? Considerando che la sostanza fondamentale amorfa della cartilagine è fortemente basofila, nella zona attorno alle lacune cartilagine, essendoci meno fibre connettivali, ci sarà più sostanza fondamentale amorfa. Quindi quella zona sarà più basofila. Ed è come quindi se queste lacune avessero un alone attorno di un viola più intenso. Questo alone lo chiamiamo matrice territoriale. Inoltre, proprio attorno, addossata alla lacuna cartilagine, è come se ci fosse una linea più scura, che va a formare la capsula delle lacune cartilagine. Per lo stesso ragionamento, poi, man mano che ci allontaniamo dai gruppi sogeni, e quindi alle lacune, essendoci più fibre connettivali, cosa accadrà? Accadrà che le fibre saranno di più. E le fibre connettivali sono fatte di collagene. Collagene è una proteina, le proteine nella stragrande maggioranza dei casi, almeno quelle collageniche, le vediamo in maniera acidofila. Quindi le fibre sono di più. La sostanza fondamentale amorfa è di meno, avremo nella zona fra i gruppi sogeni una parte più chiara. Attenzione, non acidofila, perché comunque la sostanza fondamentale amorfa è sempre basofila. Però, data l'acidofilia di quelle fibre connettivali, ci sarà una basofilia meno intensa, come un viola più chiaro. Questa zona prende il nome di matrice interterritoriale, perché appunto si trova tra le diverse matrici territoriali. Vediamo adesso quindi come è fatta la sostanza fondamentale amorfa. È un tessuto connettivo, quindi la sostanza fondamentale amorfa avrà tutti gli elementi che già abbiamo incontrato per un connettivo propriamente detto. Cambia soltanto il tipo. Per quanto riguarda i glicosaminoglicani, i due glicosaminoglicani preponderanti nella cartilagine iarina sono i condroitinsolfati e gli eparansolfati. Sono due glicosaminoglicani solforati, quindi hanno al loro interno atomidi zolfo, e sono loro, diciamo, i maggiori responsabili della basofilia della sostanza fondamentale amorfa della cartilagine, proprio perché conferiscono questa caratteristica alla sostanza fondamentale. Per quanto riguarda invece le glicoproteine, la più importante è la condronectina, che ricorda nelle sue funzioni quella che era la fibronectina del connettivo propriamente detto, quindi media l'adesione fra i diversi elementi cellulari. C'è tuttavia una peculiarità della cartilagine iarina, ovvero la presenza dei granuli della matrice. Cosa sono i granuli della matrice? I granuli della matrice sono delle strutture formate da aggregati proteoglicanici, quindi ogni granulo in realtà non è altro che una molecola. Però è una grossa molecola, perché è formata da una molecola centrale di acido di aluronico, su cui sono montati circa un centinaio di aggrecani, che vi ricordo sono proteoglicani. Quindi una molecola di acido di aluronico più 100 molecole circa di aggrecano formano un aggregato proteoglicanico. Ogni aggregato proteoglicanico forma un granulo della matrice. E quindi noi per queste li riusciamo a vedere perché sono molecole di notevole dimensioni. A questo punto però sorge spontanea una domanda. Se abbiamo detto che la sostanza intercellulare è formata da fibre connettivali e sostanza fondamentale amorfa, per quale motivo allora noi vediamo soltanto la sostanza fondamentale amorfa? Negli altri connettivi, abbiamo visto, le fibre si vedevano. Se prendiamo un connettivo fibroso denso o un connettivo propriamente detto lasso, comunque noi vediamo la sostanza intercellulare formata appunto da fibre connettivali e della sostanza fondamentale amorfa. Qui le fibre non si vedono. Per quali motivi? Il primo motivo è che la basofilia marcata dalla sostanza fondamentale amorfa tende a coprire quella che invece è l'acidofilia delle fibre. E quindi noi non le vediamo. L'altro motivo è che queste fibre sono molto piccole. Quindi vederle, vi ricordo che il collagene tipo 2 raramente tende a formare fibre di notevole dimensioni. Quindi principalmente forma fibre di dimensioni molto piccole. E quindi questo è un altro elemento che non ce le fa vedere. E qui ci sono anche altri motivi di natura ottica, in base alla luce proprio che è all'indice di rifrazione che hanno sia la sostanza fondamentale amorfa che le fibre connettivali, che appunto non ci permettono di vedere. Quindi il fatto che le fibre non si vedano non vuol dire che non ci siano. Ci sono, ma non si vedono per questa serie di motivi. Abbiamo visto quindi quali sono i componenti della cartilagine iadina. Adesso vediamo come si organizzano questi componenti all'interno del tessuto. Se noi facessimo una sezione di cartilagine, potremmo individuare dall'esterno all'interno diverse zone con degli aspetti caratteristici. La zona più esterna è il pericondrio, periattorno, condrio e cartilagine. Si tratta di uno strato connettivale in cui sono immerse anche però delle cellule molto importanti. Sono cellule di natura condroblastica, quindi cellule capaci di produrre ancora gli elementi della cartilagine. Subito al di sotto del pericondrio sono presenti delle cellule che assieme formano la zona tangenziale. È una zona ancora non fortemente basofila, quindi non ancora come la cartilagine vera e propria. Inoltre gli elementi cellulari sono appiattiti e non si organizzano ancora in gruppi isogeni e le fibre sono molto sottili. Nella zona intermedia, invece, la basofilia inizia ad aumentare e le cellule iniziano ad avere una forma più tondeggiante, quindi più tipica delle cellule della cartilagine. Tuttavia non si organizzano ancora a formare i gruppi isogeni. Infine, al centro c'è la zona radiata, in cui non solo le cellule si organizzano a formare i gruppi isogeni, ma ci sono anche fibre di notevole spessore. Quindi è come se noi avessimo un graduale passaggio dal connettivo che sta attorno alla cartilagine, quindi pericondrio con controblasti, e poi pian piano il tessuto che assume le caratteristiche tipiche di quel tipo di tessuto, e quindi della cartilagine. La cartilagine, tuttavia, una volta che si forma, ha bisogno di accrescersi. Questo accrescimento può avvenire in due modi diversi. Un primo accrescimento deriva dalla forza che esercitano i condrociti di un gruppo isogeno quando si duplicano. Infatti, le pareti della lacuna cartilagine non sono rigidissime, ma hanno una certa deformabilità. Quindi, quando i condrociti si dividono, fanno pressione contro queste pareti e ne determinano un allargamento. Si parla, quindi, in questo caso, di accrescimento interstiziale. L'altro accrescimento, invece, è quello che viene dal pericondrio. Abbiamo detto esserci i condroblasti. I condroblasti producono la matrice extracellulare, e quindi questo determina un accrescimento che non è detto interstiziale, ma che è detto per apposizione, perché appunto vengono messi assieme più elementi, e quindi si ha questo accrescimento. Per concludere il discorso sulla cartilagine ialina, vediamo un po' di immagini. Ecco qui, appunto, il classico aspetto della cartilagine ialina, con i gruppi isogeni, la matrice territoriale, appunto, che appare come un alune sfumato attorno al gruppo, e poi, fra le varie matrici territoriali, la matrice interterritoriale, che, vedete, è più chiara rispetto alla zona attorno ai gruppi isogeni. Qui, invece, possiamo vedere il classico aspetto delle varie zone, dall'esterno verso l'interno, quindi cellule più appiattite, e poi via via, che si va verso l'interno, cellule sempre più tondeggianti. Qui, addirittura, riusciamo a vedere questo passaggio da tutti e due i lati, quindi la parte centrale, che è gli aspetti tipici della cartilagine ialina, e poi, superiormente e inferiormente, appunto, gli elementi delle altre zone. E qui ancora, appunto, una cartilagine. Non fatevi ingannare dal colore della matrice extracellulare, anche se rossa non significa che acidofila. Questa è una colorazione diversa, quindi bisogna sempre vedere il colore dei nuclei e comparare il colore dei nuclei con quello della sostanza intercellulare. E in base a quello puoi fare le considerazioni. Bene, vediamo adesso l'altro tipo di cartilagine, ovvero la cartilagine elastica. La cartilagine elastica è una cartilagine che ritroviamo a livello del padiglione auricolare nell'adulto e a livello dell'epiglottide. Ha, grossomodo, le stesse caratteristiche della cartilagine ialina. Infatti, si studia per differenza rispetto alla cartilagine ialina. Però, in più, rispetto alla cartilagine ialina, ha una maggiore elasticità, proprio perché, vedremo, è fatta da fibre elastiche. Quindi questa elasticità le permette di deformarsi ancora di più rispetto alla cartilagine ialina e di trovarsi, quindi, in tutti quegli stretti in cui c'è bisogno di una maggiore deformabilità. Questo è il classico aspetto che assume la cartilagine elastica. La cartilagine elastica, di solito, si vede con delle colorazioni particolari, tra cui quella più importante per, appunto, la colorazione all'orceina. La cartilagine elastica, rispetto alla cartilagine ialina, ha delle differenze. La prima differenza è che la sostanza intercellulare, ovviamente, contiene fibre elastiche e non fibre collagene. E questo, appunto, gli dà un aspetto diverso, perché, vedete, le fibre sono diversamente intrecciate fra di loro e assumono questa colorazione diversa, proprio in virtù dell'orceina. Inoltre, le fibre elastiche tendono a diventare via via più lasse man mano che si va verso la periferia della cartilagine. I gruppi isogeni, poi, sono più piccoli, così quindi come anche le lacune, e inoltre questa è una cartilagine che va incontro molto raramente a calcificazione. Quindi tutta la cartilagine che poi si trasforma in osso e cartilagine ialina, solo per piccola parte, contribuisce la cartilagine elastica. Per concludere, quindi, il discorso, vediamo l'ultimo tipo di cartilagine, ovvero la cartilagine fibrosa. La cartilagine fibrosa si trova nell'adulto in diverse parti, tra cui, soprattutto, a livello del disco intervertebrale, cioè di quella struttura interposta tra una vertebra e l'altra che ha la funzione di ammortizzare i carichi meccanici sulla colonna vertebrale, e poi a livello del punto in cui un tendine si inserisce su un osso. Il tendine del muscolo, per far sì che il muscolo possa svolgere la prima funzione, si fissa su un osso. Il punto in cui il tendine si fissa nell'osso contiene cartilagine fibrosa. Ma com'è fatta la cartilagine fibrosa? La cartilagine fibrosa è il punto di passaggio fra un tessuto connettivo fibroso denso e una cartilagine, cioè un tessuto che è proprio una via di mezzo, perché non ha delle caratteristiche tipiche della cartilagine, ma non ha neanche totalmente le caratteristiche tipiche di un connettivo fibroso. Che caratteristiche ha? Innanzitutto troviamo fibre e collagene di tipo 1, quindi questa già è una grossa differenza, perché vi ricordo che nella cartilagine yalina il collagene di tipo 2, e quindi ci sono grossi fasci, perché vi ricordo che il collagene tipo 1, a differenza del tipo 2, va a formare fasci più grandi, quindi siamo nell'ordine dei 10-12 micron. I condrociti sono simili a quelli delle altre cartilagini, però devono occupare gli interstizi fra le diverse fibre, e quindi essendo questi interstizi più allungati, queste cellule tendono a formare dei gruppi isogeni più allungati, invece dei tipici gruppi isogeni sferici che abbiamo visto nella cartilagine. Inoltre, un'altra importante differenza tra la cartilagine fibrosa e la cartilagine elastica yalina è che la cartilagine fibrosa è priva di pericondrio. Quindi tutti questi elementi vi fanno capire come in realtà non siamo ancora nel mondo della cartilagine, ma non siamo ancora neanche più nel mondo del connettivo propriamente detto, siamo proprio in un punto di passaggio. Bene, iniziamo adesso a parlare del tessuto osseo, quindi l'altro tessuto connettivo di sostegno. Sembra appunto la solita mappa che ci fa capire dove siamo. Stiamo parlando di tessuti connettivi specializzati, in particolare di quelli con funzione di sostegno, abbiamo visto la cartilagine, adesso parliamo del tessuto osseo. Il tessuto osseo forma l'impalcatura ed il sostegno dell'individuo adulto, quindi tutto il nostro corpo si tiene su grazie a tutte le ossa che lo compongono. Come vediamo l'osso? L'osso lo possiamo vedere con due colorazioni che sono tipiche dell'osso. La prima è l'emotossiline osina, quindi che è una colorazione classica, in cui l'osso apparirà fortemente acidofilo. Per la presenza vedremo di stipate fibre collagene, proprio perché è ricco di fibre collagene tipo 1. Mentre l'altra colorazione è la colorazione di PAS. Infatti l'osso è molto PAS positivo perché è altamente glicosilato. E quindi questa colorazione mi permette anche di vederlo. Spesso poi, soprattutto quando si vogliono valutare i processi di ossificazione, si usa una doppia colorazione, alcian blu più PAS oppure alcian blu più emotossiline osina. In questo caso appunto si riesce a colorare la cartilagine di un blu intenso, mentre con l'altra colorazione si colora l'osso. E quindi si può vedere, appunto, si può studiare il processo di ossificazione. Quindi tessuto osseo, tessuto connettivo, sostanza intercellulare, fibre connettivali. Perché vi ricordo che è sempre un tessuto connettivo. Quali fibre troviamo all'interno del tessuto osseo? Troviamo soprattutto fibre collagene tipo 1, molte fibre collagene tipo 1, e questo non deve stupire perché ovviamente le fibre collagene tipo 1 hanno il compito di dare una forte resistenza alla trazione e quindi devono proprio stare all'interno dell'osso. E poi troviamo delle fibre reticolari che si vanno a disporre attorno ai vasi. Questo ci permette di individuare un'altra grande differenza fra la cartilagine e il tessuto osseo. La cartilagine è un tessuto privo di vascolarizzazione, quindi non troveremo mai vasi sanguigni all'interno della cartilagine. Tutto il nutrimento della cartilagine viene da quello che c'è attorno alla cartilagine stessa. Il tessuto osseo, invece, è vascolarizzato e contiene al suo interno vasi sanguigni che, come vedremo, poi avranno degli spazi in cui circolare. Vediamo quindi adesso la sostanza fondamentale amorfa del tessuto osseo. Abbiamo detto, per gli altri tessuti, che la sostanza fondamentale amorfa era formata per lo più da glicoproteine, glicose amminoglicani, comunque esclusivamente da una componente organica. Il tessuto osseo, invece, ha questa peculiarità. Accanto alla componente organica, vi è una componente inorganica o minerale, ovvero una componente formata da molecole che non sono di natura organica, quindi non sono glucidi, non sono proteine, e via dicendo. Ma andiamo con ordine. La componente organica comprende, innanzitutto, un grande mondo di glicoproteine, quindi diverse glicoproteine che vedremo hanno funzioni completamente diverse fra di loro. Innanzitutto c'è la fibronectina alfa-5-beta-1. Si tratta di un particolare tipo di fibronectina che troviamo a livello dell'osso. Poi c'è l'osteonectina. L'osteonectina è la glicoproteina più abbondante dell'osso e ha un'alta affinità per lo ione calcio. L'ione calcio, come vedremo, è, insieme al fosfato, la componente fondamentale dei cristalli, quindi di quelli che si vengono a formare. Quindi l'osteonectina, essendo molto affine per il calcio, ha il compito di agire come elemento di nucleazione. La nucleazione non è altro che la prima fase della formazione di un cristallo. Quindi l'osteonectina ha proprio questo compito, cioè consentire la nucleazione, e quindi la formazione, dei cristalli che poi formano la componente minerale. Poi c'è la fosfatasi alcalina. La fosfatasi alcalica in realtà è un'enzima. Un'enzima la cui funzione è quella di staccare elementi ionifosfato da altre molecole in modo da renderli disponibili per la formazione dei cristalli di calcio. Quindi è, insieme all'osteonectina, un altro elemento importante per la formazione degli ioni calcio. Dei cristalli di calcio. Poi ci sono le sialoproteine ossee. Questo nome è dovuto al fatto che queste proteine sono unite a acido sialico, che è un particolare zucchero modificato. Le celloproteine ossee hanno al loro interno una sequenza, la sequenza amminoacidica RGD. Si tratta di una sequenza la cui funzione è quella di mediare l'adesione con diversi tipi cellulari, tra cui appunto anche le cellule dell'osso. Queste comprendono una serie di glicoproteine diverse. La più importante è la BSP1, anche detta osteopontina o OPN. Questa è fondamentale perché è la glicoproteina che media l'adesione fra l'ossoclasta, quindi con l'integrina alfa-v-beta-3 dell'ossoclasta, e appunto la matrice ossea. L'ossoclasta, anche se non abbiamo ancora parlato, è una cellula molto importante del tessuto osseo. La più funzione è quella di digerire il tessuto osseo vecchio, in modo che poi gli ossoblasti possano deporre quello maturo. Grazie appunto a questa interazione con l'osseopontina può avvenire la digestione. Poi c'è la BSP2, e infine c'è la glicoproteina acida dell'osso, anche detta BAG-75. Un altro gruppo importante di componenti organiche della sostanza fondamentale amorfa è rappresentato dei proteoglicani. Questi sono simili a quelli che abbiamo visto per il connettivo propriamente detto. In particolare, i due tipi di proteoglicani presenti a livello del tessuto osseo sono la decorina e il biglicano. Poi c'è il GLA. Il GLA, o meglio, proteine contenenti il GLA, il GLA è un amminoacido, quindi le proteine contenenti il GLA sono delle proteine che hanno questo amminoacido che ha una caratteristica. Questo amminoacido agisce come chelante per l'ioni calcio. Che cos'è un chelante? Un chelante non è altro che una molecola che va a prendere un qualcosa e lo scherma da tutto il resto, cioè lo rende indisponibile per delle reazioni chimiche. Quindi il GLA delle proteine contenenti il GLA ha proprio questo compito, cioè prendere il calcio e schermarlo, renderlo indisponibile per la formazione degli ioni calcio. Quindi questo ci fa capire qual è il ruolo di queste proteine contenenti il GLA. Saranno proteine che avranno il compito di andare a inibire la formazione dei cristalli di calcio. In particolare le due proteine importanti sono l'osteocalcina, che si è visto avere appunto un ruolo importante nella inibizione della mineralizzazione, e poi la proteina GLA della matrice, di cui ancora non si conosce bene la funzione. Poi c'è l'FGF23, ovvero il Fibrolast Growth Factor 23, che appunto è una molecola la cui funzione, anche se può sembrare agire su fibroblasti, in realtà si chiama così per un altro motivo, e la sua funzione è proprio quella di andare ad agire sul rene, sul rene, in modo di inibire l'assorbimento del calcio. Infine poi c'è la BMP, ovvero Bone Morphogenetic Protein, che sono proteine che si attivano quando c'è una frattura, e vanno a simulare gli osteoblasti, in modo che questi producano una nuova matrice. La componente minerale, invece, è formata, come vi dicevo, da cristalli. Questi cristalli sono cristalli di apatite. La formula chimica alla base è Ca10 più 4,6, con due cariche positive. Quindi ci fa capire già che il cristallo di apatite, che è una forma esagonale, è un cristallo carico positivamente, con due cariche positive. In realtà noi non incontriamo l'apatite, ma incontriamo l'idrossi-apatite, proprio perché queste due cariche positive vengono compensate da due ioni OH. L'idrossi-apatite, quindi, si trova ovunque all'interno dell'osso, lungo i fasci, lungo le fibrille e all'interno delle fibre. Il suo compito qual è? Innanzitutto conferire durezza, e quindi questo l'abbiamo capito bene, perché essendo componente minerale, essendo un cristallo duro, la sua funzione è proprio quella di consentire all'osso di avere quelle proprietà di durezza che poi lì sono peculiari. L'altra però importante funzione da non trascurare è quella di fungere i defossido per bioni calcio. Quando abbiamo parlato delle epiteliche endocrine, abbiamo visto che ci sono due cellule, ovvero le cellule parafollicolari della tiroide e le cellule della paratiroide, che producono due ormoni, calcitonina e PTH, che vanno a regolare la calcemia, cioè la quantità di calcio all'interno del sangue. Il calcio viene messo e tolto dal sangue proprio a partire dalle ossa. Quindi, se ci sarà uno stimolo ipercalcemizzante, quindi che è diretto ad aumentare la calcemia, allora il calcio si toglierà dai cristalli e andrà nel sangue. Viceversa, il calcio verrà preso dal sangue e verrà deposto proprio a livello delle ossa.